I sogni del cassetto sono quei sogni per i quali la gente vive una vita morta. Chi non ha sogni del cassetto? Ma quanti si chiarano perché li lasciamo al buio? La motivazione per i quali li lasciamo al buio sono i limiti. E questo è il tempo delle cattedrali La pietra si fa Statue, musica e poesia E tutto sale su verso le stelle Su mura e vetrate La scrittura, architettura Ciao a tutti, io sono Salvatore Cilia, sono un cantante e un insegnante di canto. Faccio questo video perché qualche tempo fa ho conosciuto Etel e soprattutto ho conosciuto Etel che mi ha dato una mano a risolvere un problema. Sostanzialmente perdevo la voce, mi capitava durante la giornata di perdere la voce parlata ma soprattutto la voce cantata, cioè non riuscivo più a cantare a un certo punto. E facendo, diciamo, delle visite specialistiche, prima di conoscere Etel e venne fuori che praticamente era dovuto a un reflusso gastrico. Ecco, da lì il medico mi prospettò di fare una visita foniatrica e venne fuori, infatti le corde vocali erano arrossate e di conseguenza questa perdita di voce era, diciamo, una conseguenza appunto di questo malessere. Facendo una vista poi successivamente dal gastroenterologo mi prescrisse una cura di antiacido gastroprotettore per tre mesi, avrei dovuto farla per tre mesi, così, sull'unghia, cioè senza nemmeno guardarmi. Insomma, io non avevo intenzione di prendere pasticchi a vita, soprattutto perché sapevo che tanti cantanti lo facevano già da anni senza ottenere dei grandi risultati. Lo feci una settimana, a dire il vero, senza alcun risultato e poi cercai altre soluzioni. Ed ecco che poi trovai Etel che invece a un certo punto mi disse, guarda, devi fare degli analisi, quindi mi prescrisse degli analisi specifici per il sangue, anche della saliva, ricordo, delle urine, per cercare di capire come ero messo. Bene, successivamente mi indicò una cura, una dieta, con anche degli integratori, vitamine da prendere, che avrei dovuto prendere per un certo periodo. E così, diciamo, un po' scettico, visto che non conoscevo Etel, a dire il vero, da questo punto di vista, l'avevo conosciuta per altre cose in comune con il nostro lavoro, con il business. E insomma mi affidai a lei, mi sono fidato, quindi, e iniziando le sue indicazioni, con le sue indicazioni, dopo 45 giorni, praticamente avvenne qualcosa che non era mai capitato. Cioè ritrovai la mia voce, una voce pulita, una voce facile, soprattutto riuscivo a cantare. Da lì a poco avrei dovuto fare un concerto d'opera, quindi sono un cantante lirico, e vi posso assicurare che fu veramente un grande piacere fare quella serata. Le prove andarono veramente alla grande, perché riuscivo a tirare fuori tutta la mia voce dalla zona più grave, dalla zona più acuta, cosa che non riuscivo nemmeno a fare prima. Quindi questo mi fece capire che probabilmente anche prima, cioè quando studiavo in conservatorio, già canto, e la voce non la sentivo al 100%, evidentemente già c'era qualche problema di questo tipo. Insomma, per farla breve, io sono rimasto veramente soddisfatto da quello che ho potuto ottenere come risultato con l'aiuto di Etel, e quindi non posso fare altro che consigliarla, suggerirla, anche per magari più scettici, però se seguite le indicazioni che vi darà lei, otterrete sicuramente dei risultati. Come è stato nel mio caso, tutt'oggi io la ringrazio, perché veramente mi ha scoperto, diciamo, un'alternativa a quella che sarebbe stata poi, diciamo, la vita di farmaci, perché i gastroprotettori e anche gli antiacidi sostanzialmente vengono consigliati a vita. C'è gente che la prende da 30 anni, dei miei amici, con i risultati, quello che siano. Capì poi, fra l'altro, grazie a lei, che nel mio caso l'antiacido sarebbe stato addirittura controproduttivo, perché nel mio caso avevo, diciamo, un pH intestinale che invece aveva bisogno di maggiore acidità, quindi per questo mi deve delle indicazioni specifiche per il mio caso. Quindi io la ringrazio e non posso che parlarne bene per quello che mi ha aiutato a risolvere.